E' vero come si muove quello con il sabato? Sto firmando? che forte lo stai filmando lui che si muove? non è successo continui a sostenere altri cerchi mi sento un pochino io mi sento un pochino io si mi sento un pochino si mi trasferisco un pochino io un pochino io mi sento un pochino Grazie a tutti. Grazie a tutti.